Purtroppo continuiamo ad assistere a soprusi e abusi nei confronti della persona umana. Su questo sfondo non possiamo non rilevare fatti di cronaca che mostrano scenari drammatici che non è possibile ignorare. In comunione col Papa abbiamo richiamato nelle scorse settimane la situazione della Libia. Penso ora a quanto sta avvenendo nei confronti dei migranti al confine tra Polonia e Bielorussia e a quelli dalle coste del Maghreb che si avventurano nel Mediterraneo. Sono vicende che non appartengono alla cultura europea generata dal Vangelo. Queste cose non ci appartengono. Penso poi, e in modo particolare in queste giornate, alle difficoltà causate ancora dalla pandemia. Le notizie che giungono dai Paesi vicini sono tutt'altro che confortanti. Di fronte all'aumento dei contagi che registriamo anche in Italia, serve un surplus di responsabilità da parte di tutti.